Io sono Mael e nella vita mi occupo del mondo dell'energia. Sto facendo dei seminari e faccio dei trattamenti individuali con un metodo che si chiama Five Elements. Ho saputo di questo evento tramite la Zoom di Patrizia che seguo da diverso tempo. Perché sentivo un richiamo forte, sapevo che sarebbe stata un'esperienza meravigliosa e non potevo mancare. Nell'evento mi hanno colpito diverse cose, particolarmente è stato bello vedere un gruppo numeroso, ma molto affiatato e unito. L'attività che mi è piaciuta di più è stato giocare insieme, lavorare e giocare nello stesso tempo. A casa da questa esperienza mi porto tanta gioia, tanta leggerezza. e il senso che si può andare oltre i propri limiti. Una parola fantastica. Appena torno a casa farò i passi che avevo già iniziato per procedere con una nuova vita. Ciao Patti, sei sempre veravigliosa e sempre devo stare con te. Un grande dono per tutti.